Il treno regionale, 99-298, di Trenitalia, proveniente da Trieste Centrale, è diretto a Sacile, delle ore 0.03, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Re di Puglia, Mossa, Capriva. Il treno regionale, 99-280, di Trenitalia, proveniente da Trieste Centrale, è diretto a Udine, delle ore 0.03, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Re di Puglia, Mossa, Capriva. Il treno regionale, 99-263, di Trenitalia, proveniente da Udine, è diretto a Trieste Centrale, delle ore 0.17, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Miramare. Il treno regionale, 16-016, di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Trieste Centrale, delle ore 1.01, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Il treno regionale, 99-175, di Trenitalia, proveniente da Gorizia Centrale, è diretto a Trieste Centrale, delle ore 2.02, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Miramare. Il treno regionale, 17-3-5-4, di Trenitalia, proveniente da Trieste Centrale, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 5.45, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Sistiana, Monfalcone, Runchi dei Legionari Nord, Sagrado, Gorizia Centrale, Cormons, San Giovanni Alnatisone, Manzano, Butrio, Udine, Basiliano, Codroipo, Casarsa, Cusano, Pordenone, Fontana Fredda, Sacile, Conegliano, Treviso Centrale, Mogliano Veneto, Venezia Mestre. Il treno regionale, 16-0-4-5, di Trenitalia, proveniente da Porto Gruaro-Caurle, è diretto a Trieste Centrale, delle ore 6.27, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Il treno regionale, 17-3-6-0, di Trenitalia, proveniente da Trieste Centrale, è diretto a Tarvisio Bosco Verde, delle ore 7.45, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Sistiana, Monfalcone, Runchi dei Legionari Nord, Sagrado, Gorizia Centrale, Cormons, San Giovanni al Natisone, Manzano, Butrio, Udine, Gemona del Friuli, Venzone, Carnia, Pompeba, Ugovizza Valbruna. Il treno regionale, 16-6-5-5, di Trenitalia, proveniente da Tarvisio Bosco Verde, è diretto a Trieste Centrale, delle ore 8.40, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Miramare. Il treno regionale, 99-276, di Trenitalia, proveniente da Sacile, è diretto a Trieste Centrale, delle ore 15.24, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Miramare. Il treno regionale, 17-3-6-1, di Trenitalia, proveniente da Tarvisio Bosco Verde, è diretto a Trieste Centrale, delle ore 14.15, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Miramare. Il treno regionale, 17-3-6-8, di Trenitalia, proveniente da Trieste Centrale, è diretto a Carnia, delle ore 16.15, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Re di Puglia, Mossa, Capriva. Il treno regionale, 17-3-6-3, di Trenitalia, proveniente da Carnia, è diretto a Trieste Centrale, delle ore 16.15, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Miramare. Il treno regionale, 99-3-1-9, di Trenitalia, proveniente da Monfalcone, è diretto a Trieste Centrale, delle ore 17.16, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Miramare. Il treno regionale, 99-2-8-2, di Trenitalia, proveniente da Trieste Centrale, è diretto a Monfalcone, delle ore 22, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Sistiana.